Per niente al mondo posso prendervi su questa esperienza che io che metto benzina Si infila la carta di credito One moment please, in process Yes, ti chiedono 200 cose, come metti in process Sì, aspettate Sì Sì Remove il naso Card declined Ma come card declined? Ok Riproviamo il process Se mi sono finti i soldi nella carta sono riuscito Sì 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 Ora se mi ti dice che card declined sono riuscito Card declined Ecco qua, la tragedia sia vera Proviamo the other card Mamma mia Senza tregua proprio Senza tregua Questo è un viaggio senza tregua Ok Nel frattempo mi ha anche fermato la maga dicendomi che le mie finanze saranno pazzesche E' il momento esatto in cui Lui diceva che la mia carta non veniva accettata Adesso questa si che è una bella fatura Card declined Bene, anche la mia carta declined Per farvi vedere che minchia succede E risolviamo il problema della giornata Vari tentativi ci sono uscita La mia carta di cliente Non era scaduta Grazie 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 Grazie